Dal fuorisacco alla Web TV, un libro del decano dei giornalisti estigiani Luigi Garrone. I rapporti con le istituzioni, i grandi fatti di cronaca nera e giudiziaria, dal dopoguerra ad oggi. Edizioni Riflesso, richiedilo scrivendo a direzione-agenziariflesso.com Un importante aiuto ai consumatori per mitigare l'aumento dei costi per fare la spesa viene da un'amica particolare. Non a caso si chiama Campania Amica, la fondazione che trova impulso dai produttori col diretti che nell'ultimo decennio hanno attuato tutta una serie di iniziative basate su un patto stretto fra gli imprenditori agricoli e i consumatori. Per gli acquisti direttamente dai produttori si sono sviluppati sempre più i punti vendita, le botteghe e i mercati di Campania Amica. In provincia di Asti punti vendita in agriturismo, nelle cantine e in vari spacci aziendali hanno ormai superato il centinaio. L'ultimo in ordine di tempo, l'agrimancelleria Allegretti di Rocca d'Arazzo, inaugurata solo alcune settimane fa. Fra le botteghe l'ultima nata è quella della famiglia Merlo presso l'azienda San Desiderio, a Monastero Bormida che propone dalla frutta alla verdura, alle carni di razza piemontese, fino ai formaggi, vini e prodotti di gastronomia. Poi ci sono i mercati, con l'inaugurazione del mercato Borgo Santa Maria Nuova, gli agrimercati di Campania Amica in provincia di Asti sono diventati sette. Presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso, in piazza Saragat, sempre ad Asti, è attivo da tempo l'agrimercato del mercoledì e del sabato, dalle 7.30 alle 11.00. A Bubbio il mercato si tiene ogni sabato pomeriggio nella centrale Via Roma e naturalmente offre una specializzazione per i formaggi e i prodotti caseari. A Calamandrana il mercato di Terra Amica è sempre a sabato ma in mattinata con la possibilità di utilizzare gli spazi dell'area mercatale della ristrutturata ex Cantina Sociale. A Castelnuovo Don Bosco il mercato di vendita diretta del contadino è in funzione ogni domenica mattina e vede la partecipazione di molti produttori del nord astigiano. Infine, tornando ad Asti, i produttori di Campania Amica si ritrovano ogni seconda domenica del mese nella rassegna agroalimentare sotto i portici di Piazza Alfieri ed ogni lunedì mattina di fronte all'ingresso dell'ospedale Cardinal Massaia. Da segnalare anche come il mercato di Campania Amica in Borgo Santa Maria Nuova nel centro di Asti, nell'area dell'ex caserma Colli di Felizzano, ogni giovedì pomeriggio si arricchisca sempre più. Questa settimana ad esempio è stato ospitato un risicoltore di Vespolate in provincia di Novara che ha proposto i suoi risi con pilatura tradizionale sistema a pietra. Dal fuori sacco alla Web TV, un libro del decano dei giornalisti astigiani Luigi Garrone. I rapporti con le istituzioni, i grandi fatti di cronaca nera e giudiziaria dal dopoguerra ad oggi.